Ciao ragazzi, questa mattina si va a Paradise Bay, nord di Malta e poi nel pomeriggio andremo a San Paul in un posto bellissimo a fare un aperitivo. Seguitemi ragazzi, adesso andiamo! È stato difficile ma ce l'abbiamo fatta dopo due ore, aspettare i bus che non si fermano perché sono pieni e cambiare bus per andare a Paradise Bay. Siamo nella strada, stiamo andando a piedi perché c'è solo un autobus che va a Paradise Bay, non ho voglia di aspettarlo e ci vediamo fra poco, dietro vediamo la nave che va a gozzo. Eccoci arrivati a Paradise Bay e praticamente è qua sotto, adesso dobbiamo scendere di scalini, meraviglioso, non c'è vento e è arrivato il sole. E eccoci qua a Paradise Bay. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!